Il tempo è scaduto! Il tempo è scaduto! Amici forti, benvenuti e ben arrivati allo stadio popolare città di Arezzo. Vintottesimo giornata, Arezzo forte e sfacchiato. Dirige l'incontro il signor Maxine Franzinca della sezione di Gallagate. Prima assistente il signor Nicolo Pasquini della sezione di Genova. Secondo assistente il signor Alex Alcunzano della sezione di Novi di Nure. Euris presenta la formazione dell'Arezzo. Con il numero 1 Luca Trombini. Con il numero 3 Mattia Pretato. Con il numero 5 Sebastiano Bianchi. Con il numero 6 Lorenzo Ponglani. Con il numero 10 Emiliano Pattorello. Con il numero 16 Simone Brabante. Con il numero 17 Mirko Lazzarini. Con il numero 19 Raffaele Cantisani. Con il numero 20 Samuele Zora. Con il numero 24 Capitano Fabio Foglia. E con il numero 28 Niccolò Gucci. Alleatore il signor Paolo Idiani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.